salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video oggi volevo iniziare una nuova serie dedicata alle trappole in apertura in ogni episodio mostrerò quali sono secondo me le tre migliori trappole di una specifica apertura ovviamente secondo me bisognerebbe studiare un repertorio serio per le aperture le trappole in apertura possono essere considerate come una forma estetica degli scacchi sono molto carine potete sicuramente fregarci qualcuno ma non tante persone comunque alcune sono molto interessanti da vedere e costituiscono una forma di spettacolo sicuramente oggi inizieremo a vedere la difesa scandinava e come ben sapete dopo il 4 il nero gioca d5 questa è la difesa scandinava qui la continuazione più giocata è e mangia d5 donna mangia d5 questa donna ora è un po esposta e la mossa più giocata è cavallo c3 con cavallo c3 ovviamente attacchiamo subito la donna e il nero deve subito spostarla in questo caso il nero gioca donna 5 che è considerata la mossa migliore in questa posizione e il bianco continua con cavallo f3 dopo cavallo f3 il nero gioca alfiere g4 mettendo pressione sul cavallo in f3 e dopo h3 il nero decide di cambiare l'alfiere per il cavallo questa non è una buona scelta perché ci concede la coppia degli alfieri e il centro è aperto quindi il bianco già un po di vantaggio in questo caso e dopo donna mangia f3 stiamo attaccando la casa b7 quindi il nero risponde con cavallo c6 per difendere la casa b7 a questo punto il bianco gioca alfiere b5 con alfiere b5 come vedete il bianco mette una certa pressione sul cavallo in c6 che deve essere difeso e il nero in questo caso prova a giocare donna b6 donna b6 per supportare il cavallo dopo donna b6 il bianco qui ha un ha una mossa molto forte che è cavallo d5 cavallo d5 per cercare di attaccare la casa c7 quindi lascia volontariamente l'alfiere impresa però questa è appunto una trappola infatti dopo donna mangia alfiere segue cavallo c7 scacco e dopo re d8 cavallo mangia donna e il bianco riesce a guadagnare la donna tornando dopo cavallo d5 in questa posizione il nero può decidere di mantenere la donna giocando donna a5 quindi non mangia momentaneamente l'alfiere a questo punto però abbiamo una mossa molto forte con la quale riusciamo a guadagnare la donna e questa mossa è b4 dopo b4 come vedete la donna del nero non ha mosse non può mangiare con il cavallo poiché il cavallo è inchiodato dall'alfiere e di conseguenza questa donna viene persa alla mossa successiva infatti non ha case dove andare quindi questa è la prima trappola passiamo a vedere la seconda trappola ok seconda trappola della difesa scandinava e4 d5 e mangia d5 donna mangia d5 anche qui cavallo c3 però in questo caso il nero risponde con donna d8 donna d8 è stata addirittura giocata da karsen in una partita contro caruana a tempo lungo e karsen ha vinto quella partita incredibile qui il bianco gioca alfiere c4 sviluppa un pezzo e dopo cavallo f6 gioca cavallo f3 quindi un'altra mossa di sviluppo e il nero prova a giocare alfiere g4 su alfiere g4 qui il bianco ha una trappola può giocare cavallo e5 con cavallo e5 minaccia matto in 1 in f7 quindi se alfiere mangia d1 quindi il nero guadagna momentaneamente la donna abbiamo alfiere mangia f7 scacco matto quindi dopo cavallo e5 qui il nero non può catturare la donna può provare a difendere f7 con l'alfiere giocando alfiere h5 per difendere f7 quindi non abbiamo più matto in 1 però ecco a questo punto qui basta sacrificare la donna sul alfiere il bianco ottiene un pezzo in più e dopo cavallo mangia h5 alfiere f7 scacco matto questa era la seconda trappola molto carina passiamo però ora alla terza trappola ok anche qui e4 d5 e mangia d5 donna mangia d5 cavallo c3 donna e5 scacco donna e5 è una variante minore della difesa scandinava alcune volte la uso anch'io è giocabile diciamo è un po è una variante minore ma giocabile in questo caso il bianco risponde con alfiere e2 e dopo alfiere g4 il bianco gioca f3 quindi guadagna un tempo sull'alfiere alfiere deve essere mosso e dopo alfiere h5 qui il bianco ha una mossa molto forte che è cavallo b5 dopo cavallo b5 il nero deve stare molto attento perché se prova a giocare per esempio una mossa tranquilla come e6 che cerca di mettere l'alfiere in gioco da qualche parte in questa posizione il bianco muove e vince e la mossa vincente da parte del bianco è d4 dopo d4 il bianco va a dare la forchetta a torre 3 infatti la donna non può in nessun modo difendere la casa c7 anzi deve stare anche attento a dove mettere la donna perché se gioca a donna di 5 ovviamente guadagniamo la donna se invece dovesse giocare donna f6 per esempio abbiamo la forchetta e guadagniamo la torre queste secondo me sono le top 3 trappole sulla difesa scandinava spero che questa serie sia di vostro interesse grazie mille per la visione di questo video ciao a tutti a presto